Ho il piacerissimo di intervistare Federico Chiesa che è stato senza nulla togliere agli altri, strepitoso in questa partita. Grazie, grazie anche a voi per questa intervista. Sono molto contento della mia prestazione perché ha aiutato la squadra a raggiungere un obiettivo importante, la semifinale contro la Juventus. Parlavamo con Guidi, un bel traguardo, quello che ho visto in voi, che tutto lo staff, tutta la squadra ha messo il cuore in campo e a volte non vediamo nella Serie A. Siete un gruppo veramente unito, un gruppo giovane e queste sono le grandi soddisfazioni anche di aver riportato un pubblico enorme qui allo stadio stamani. Sì, noi siamo un gruppo sano, siamo molto uniti e questo si vede anche in campo. Non siamo 11 giocatori ma siamo 22 e oggi si è visto ancora di più perché siamo andati sotto e siamo riusciti a ribartare una partita e portarla a termine. Dopo un primo tempo che non ci meritavamo assolutamente di perdere, Kremlach, non diciamo sbagliato, è stato bravissimo, un portiere del 2000 che ho fatto complimenti a Cristian Brocchi. Però il secondo tempo è stato veramente magnifico, è successo qualcosa negli spogliatoi, mister Guidi ha dato un po' più di forza. Abbiamo fatto gol, questo è stato determinante perché noi anche nel primo tempo potevamo pareggiarla questa partita e finire 2-1 già nel primo tempo. Però i gol non sono arrivati, noi con il nostro possesso palla creiamo molte occasioni e alla fine abbiamo raccolto i frutti in questa partita. Infatti l'ultimo non ce la facevi più come tutta la squadra, ho detto a mister Guidi che dobbiamo sfatare anche questa situazione di arrivare alle semifinali come abbiamo fatto l'anno scorso. Sì, sì, sarà un tabù da sfatare perché anche l'anno scorso Bari, Las Verona, Viareggio è semifinale del campionato e proveremo a riuscire a passare questo traguardo che negli ultimi anni non siamo stati sfortunati. A noi addetti ai lavori ci state dando tante soddisfazioni, però te personalmente oltre alla soddisfazione di quello che stai costruendo per il tuo futuro sicuramente poi proseguirà anche il ritiro con le nazionali. Per te è un buon periodo, un buon momento. Sì, sì, io lavoro ogni giorno per migliorarmi e adesso sto raccogliendo i frutti dei primi sei mesi e questa è la dimostrazione della partita di oggi che anche il gruppo, grazie al nostro gruppo poi emerge il singolo. Un aneddoto, ti devo dire, dietro di me avevo delle signore che hanno detto ma come fa questo ragazzo a correre così tanto? Forse ha un polmone di più. Questo è in merito dell'allenamento del mister che ci fa lavorare ad alta intensità per tutta la durata dell'allenamento e poi lo riportiamo in partita quindi è normale per noi correre fino all'ultimo. Poi grazie per il signore, però vabbè, no questa è una cosa normale per noi. Benissimo, facciamo un grandissimo bocca al lupo a Federico e ci vediamo alle prossime.